Ben trovati a questa seconda parte di fatti e commenti, andiamo a vedere anche in questa seconda parte le notizie dell'ultima ora tratte dai quotidiani online del nostro territorio. Torniamo a dare un'occhiata a UTVRS, il quotidiano online appunto del nostro gruppo editoriale, si parla di domiciliari con braccialetto per un sedicenne, il personale della Polizia di Stato a conclusione di un'attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, ha sottoposto agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico un 19enne, il ragazzo durante una festa tra amici in casa aveva colpito con un coltello un sedicenne alla schiena. Sulla base di quanto ricostruito dalla Polizia in corso di indagini, l'indagato, oltre che del reato di lesioni personali aggravate, si era reso responsabile anche di tentata estorsione, spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi. E purtroppo torniamo a parlare di incidenti sul lavoro, tragedia nel primo pomeriggio di oggi nelle campagne del Senigalliese, un 69enne ha perso la vita dopo essersi schiantato con il trattore contro un albero, si trovava a lungo la strada provinciale di Morro nella frazione di Grottino quando è avvenuto l'incidente. Passiamo a cronache maceratesi, 5 vanno al ristorante, mangiano e poi scappano senza pagare il conto, il titolare dell'Osteria della Malora di Civitanova ha utilizzato le immagini della fuga riprese dalle telecamere e poi insomma i 5 sono stati rintracciati. Si torna a parlare anche della situazione post-sisma, strade su cratere 2016 vertice al MIT con viceministri e rixi, quattro regioni. Il commissario straordinario alla riparazione e alla ricostruzione sisma, Guido Castelli, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha partecipato ad un incontro sulle strade del centro Italia. Al centro del confronto il piano di interventi per la viabilità nei territori del cratere compresi tra Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche. All'incontro, preseduto dai viceministri Galeazzo Bignami, Edoardo Rixi, oltre al commissario Castelli, hanno preso parte i presidenti della regione Abruzzo, Umbria, l'assessore alla ricostruzione della regione Lazio e tanti altri rappresentanti. del territorio anche adiacente al nostro. Concludiamo con una notizia di sport. Ci spostiamo a Pesaro. Alice De Gradi prosegue la sua estate azzurra dopo aver fatto parte della squadra che ha partecipato alla Volley Nation League e quella che si è piazzata al quarto posto al campionato europeo. La schiacciatrice della Megabox Ondulati della Savio Vallefoglia farà parte della nazionale che, sotto la guida di Davide Mazzanti, disputerà il torneo di qualificazione per le Olimpiadi di Parigi nel prossimo anno. E torniamo a noi. È arrivata la seconda ospite di questa serata. Diamo il benvenuto alla dottoressa Romina Pica, presidente del club ascolano della Sor Optimist. Dunque lei è stata nominata poco tempo fa e rappresenta un'associazione mondiale di donne impegnate in attività professionali e manageriali, associazione che a livello nazionale ha da poco festeggiato ben 100 anni. Sì, grazie. Grazie innanzitutto per l'invito. Sì, il Sor Optimist International è un'organizzazione internazionale che opera a livello mondiale. È un'organizzazione di volontariato, noi facciamo attività di volontariato, siamo un club service. Sì, esattamente da poco il nostro club, la nostra organizzazione ha festeggiato 100 anni, in quanto il Sor Optimist è nato nel 1921 in America, il primo club è nato in California. Poi nel 1924 è stato fondato il primo club in Europa, a Londra e poi a Parigi. E nel 1928 è nato il primo club italiano del Sor Optimist, è il club di Milano. Da qui è nata l'Unione Italiana, di cui facciamo parte noi come club di Ascoli Piceno. In Italia ci sono 160 club, siamo più di 5.000 socie. Il nostro club è un club che ha 40 anni, il club di Ascoli, e opera su un bacino territoriale provinciale, perché siamo socie di Ascoli e Provincia, Ascoli e San Benedetto, quindi le nostre iniziative sono focalizzate prevalentemente sulle città di Ascoli e San Benedetto. E siamo 68 socie, un club molto molto numeroso. Ecco, quindi una voce universale che opera per l'avanzamento della condizione femminile, ma anche per la promozione dei diritti umani. Sì, esattamente. Noi siamo molto operative sul fronte della tutela dei diritti umani e della promozione della condizione della donna, con un focus particolare sulla promozione dell'uguaglianza, l'uguaglianza di genere soprattutto, e il contrasto alla violenza, la violenza contro le donne. Poi è un tema che ci sta particolarmente a cuore. Certo. Dunque, anche grazie alla past president Piera Seghetti, negli ultimi anni sono stati raggiunti tantissimi obiettivi, penso alla pinacoteca civica, piantumazione di alberi, fino ad argomenti ben più radicati e complessi. Sì, in effetti noi ci muoviamo in un raggio di azioni e di attività molto molto ampio. Lo scorso anno, in occasione dei 40 anni del club, abbiamo realizzato varie iniziative, come quella a cui accennava, che è il restauro di tende antiche, di una tenda molto antica presso la pinacoteca civica di Ascoli. Abbiamo piantumato delle aiuole, abbiamo lavorato sugli spazi verdi della città, perché uno dei nostri progetti è proprio quello di, innanzitutto, abbiamo un grande legame con il territorio, perché realizziamo service sul territorio, in collaborazione con le istituzioni, in sinergia con le istituzioni. E uno dei progetti che porta avanti la nostra associazione è il progetto La città che vorrei. Cioè, cerchiamo in qualche modo di contribuire al miglioramento della città, degli spazi urbani, a rigenerare la nostra città. Quindi abbiamo dei progetti che sono mirati proprio su questo obiettivo. Ecco, quindi azioni condivise, collaborazioni con vari enti e istituzioni, anche con altri club. Sì, assolutamente. Lavoriamo in sinergia, innanzitutto, con tutti i club Soroptimist, soprattutto della Regione Marche, con cui siamo in sinergia, ma anche trasversalmente con altri club service, con cui realizziamo anche dei progetti importanti sul territorio. Ecco, la notizia di questa mattina, che riportavano i quotidiani locali, parla del comune di Ascoli Piceno, che offre riparo alle vittime di violenza, insieme all'ambito sociale, sta allestendo una casa che accoglierà donne in pericolo. L'operazione viene sostenuta anche dalla Regione Marche. C'è ovviamente massimo riservo sull'ubicazione, ma anche il Soroptimist Club di Ascoli Piceno ha deciso di offrire un sostegno importante alle donne vittime di violenza, che ai miei sono ancora molte, e sono state allestite delle stanze protette sia ad Ascoli che a San Benedetto del Tronto. Esattamente, questo è uno dei progetti più importanti che sono molto a cuore della nostra associazione. È il progetto Una stanza tutta per sé, che è un progetto nazionale, che noi abbiamo calato sul territorio, realizzando due importanti obiettivi. Nel 2019 il Soroptimist aveva realizzato una stanza tutta per sé, che è un'aula di ascolto protetto per le donne che denunciano la violenza. Nel 2019 l'abbiamo realizzata nella caserma dei Carabinieri di Ascoli, e l'avevamo intitolata Melania Rea. Nell'ambito di questo progetto, quest'anno, sotto la mia presidenza, abbiamo realizzato la seconda stanza di ascolto protetto presso la caserma dei Carabinieri di San Benedetto. È stato un progetto molto, molto importante, che i Carabinieri ci avevano sollecitato, perché il fenomeno, purtroppo, della violenza è presente anche nel nostro territorio, anche nella nostra provincia, e quindi è stato un obiettivo molto, molto importante, a cui tenevamo particolarmente. Questo è il focus sulla violenza, è uno dei principi cardine della nostra associazione, e abbiamo siglato un protocollo d'intesa proprio con i Carabinieri per realizzare queste aule di ascolto protetto presso le caserme, e per accogliere le donne in un ambiente più confortevole, in un momento difficile, doloroso, che è quello in cui si avvicinano alle forze dell'ordine per denunciare la violenza. Questo è il significato di questo progetto. Ovviamente non mancano, diciamo, iniziative più leggere, la musica classica, ad esempio. Avete collaborato con il maestro Ada Gentile anche per la realizzazione, per la scoperta di nuovi talenti. Assolutamente sì, questo è un altro progetto importante che la nostra associazione porta avanti da anni, è il progetto riguardante le domeniche in musica, che sono degli appuntamenti musicali, che sono concentrati nelle domeniche di novembre a teatro, a teatro 22 Basso. Li proponeremo anche quest'anno con la collaborazione del maestro Ada Gentile, che è il direttore artistico e anche una socia della nostra associazione. Saranno tre appuntamenti musicali nelle tre domeniche di novembre al foyer del Teatro Ventilio Basso. Ci saremo sicuramente altre iniziative che sono in programma per i prossimi mesi, oltre a questi concerti musicali. Sì, nel mese di ottobre abbiamo in programma un convegno molto importante che realizzeremo in collaborazione con la Polizia di Stato per parlare della cyber security. E quindi un problema che è molto molto sentito, quello della sicurezza informatica. Parleremo con un convegno che si svolgerà a Palazzo dei Capitani il 6 ottobre. Parleremo con le forze dell'ordine di questo problema che sta diventando anche piuttosto sentito anche nel nostro territorio dopo la pandemia si è sviluppato pesantemente. Quello delle truffe online, quello della criminalità informatica è un fenomeno dal quale ci dobbiamo difendere. Quindi realizzeremo questo convegno per affrontare questo argomento oggi particolarmente sentito. Poi sempre nel mese di ottobre, questa volta però a San Benedetto, realizzeremo un corso di educazione finanziaria in collaborazione con la Banca d'Italia e la Commissione Alipari Opportunità con la quale collaboriamo naturalmente per queste tematiche dell'uguaglianza di genere. Tanto lavoro dunque aspetta e torneremo sicuramente a parlare delle vostre iniziative sempre molto interessanti. Intanto ci salutiamo, la ringraziamo per aver partecipato alla nostra trasmissione. Grazie, sono io che vi ringrazio. Grazie. Termina qui l'appuntamento di oggi con fatti e commenti. Torneremo domani alla stessa ora sempre su YouTube URS. Un grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi. Grazie. 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 Grazie.